Restiamo a Roma blindata in vista del derby in programma oggi alle 18, misure di sicurezza rafforzate dopo i recenti episodi di tifo violento. Seguiamo Lorenzo Santorelli. In un olimpico gremito da 60 mila spettatori, Lazio e Roma si giocheranno un posto in Champions League. A controllare il derby mille agenti. Usciamo da due anni di pandemia, di restrizioni, di dividi di trasferte. Si è ritornati a sold out negli stati, non abbiamo avvisaglie del pericolo di scontri, ma ovviamente il derby richiede sempre la nostra massima attenzione. Rivalità ai gemellaggi, campanilismo e politica anche su scala internazionale. Il furto dello strescione da parte degli ultras della Stella Rossa di Belgrado, gli assalti dei baschi, della Real Sociedad, dai giallorossi in trasferta, i timori per la partita di Europa League col Feyenoord, gli olandesi nel 2015 scatenarono la guerriglia urbana nella capitale. Poi in tutta Europa giungono tifoserie gemellate per contrapporsi a quella imposta. Come a Napoli, gli huligans dell'Eintracht Francofort, supportati nei disordini dai bergamaschi, da spopere tedeschi identificati, condannato uno dei cinque napoletani arrestati. Oggi possibili incroci pericolosi tra i veronesi diretti a Genova e i partenopei che a Torino tornano in trasferta per la prima volta dallo scorso 8 gennaio, il giorno degli scontri con i romanisti in autostrada.